E benvenuti su The Nature of Light, il podcast di fotografia e cultura dell'immagine che non chiuderà nei prossimi 10-15 giorni, a differenza di DP Review, che come tutti immagino avrete ormai sentito, e se siete iscritti al mio Telegram ve l'ho già annunciato con un post piuttosto scioccato il giorno in cui ho preso questa notizia, chiuderà il 10 di aprile, vale a dire fra pochi giorni nel momento in cui sto registrando. Naturalmente se ascoltate la puntata dopo il 10 di aprile probabilmente per voi è già chiuso. Però tutto questo genera un po' di ragionamenti e penso che si possano trarre anche delle conclusioni ragionando su quello che sta succedendo a DP Review, su quello che sta succedendo anche alla fotografia in generale. E quindi il miglior modo per arrivare alla conoscenza di questi ragionamenti, alla fattualità di queste conclusioni, è quella di attendere dopo la sigla in cui ovviamente ne parleremo profonditamente. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con ACU. We have to go back to 1944 to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could in effect press a button and have a record of it in its accuracy, its intricacy, its beauty, have that forever. Insomma che DP Review chiude dopo 25 anni di attività questo mega sito Digital Photography Preview che è stato un po' il capostipite di tutti quei siti, di tutti quei canali YouTube, di tutte quelle testate, insomma vario titolo che ci occupavano di recensire le macchine fotografiche e di parlare delle ultime tecnologie. Non è niente di nuovo, ci sono sempre resistito questi tipi di contenuti nel mondo della fotografia, però chiaramente dalla nascita di internet in poi, in particolare dall'uscita nel mondo delle fotocamere digitali, tutto questo ha assunto un'importanza sempre maggiore, perché naturalmente il digitale cosa succede? Le innovazioni si susseguono e quindi bisogna sempre stare al passo coi tempi e questo è un circolo virtuoso slash vizioso che effettivamente si è innescato con la fotografia digitale. Spesso mi faccio il ragionamento che la F5 che ho qua a portata di mano è una macchina fotografica che per essere una macchina fotografica analogica è durata relativamente poco, ma è durata anni e anni e anni. Ci sono altre macchine fotografiche del passato come Nikon F, tante Canon, tante Olympus che sono durate ancora di più e perché semplicemente non c'era bisogno di continuare ad aggiornare le cose. Insomma la fotografia era molto più semplice, era un obiettivo con una scatola buia dove venivano registrate delle immagini su una pellicola o su un supporto sensibile. L'avvento del digitale ha generato un susseguirsi di novità come è normale che sia e d'altra parte io non sono lontano dal mondo digitale perché lavoro su digitale e quindi essendo la mia vita basata sostanzialmente su pubblicare applicazioni o siti internet che vivono all'interno di un browser, l'idea che un sito venga chiuso non mi stupisce, non mi sembra così assurdo, ne ho visti succedere tantissime e quindi il concetto di chiudere DP Review non mi lascia del tutto interdetto. Quello che però mi lascia un po' interdetto e mi fa pensare abbastanza è il metodo con cui DP Review verrà chiuso, cioè Amazon che è la compagnia che detiene la proprietà di DP Review ha deciso di chiuderlo il 10 di aprile oscurandolo, cioè sostanzialmente spegne il server chiusa lì, finita lì, DP Review non esiste più, che fa anche rima, non era una cosa voluta, però DP Review non esiste più e tutto il patrimonio di conoscenza che c'è dentro quel sito che al di là delle recensioni aveva anche un'interessante sezione forum ed era comunque un qualcosa di storico perché 25 anni in un mondo molto mutevole come quello digitale sono effettivamente tanti. L'idea di chiuderlo e di cancellarlo mi è sembrata veramente strana, cioè l'idea, io pensavo che se mai fosse successo si sarebbe cercato un compratorio, io immagino che ci sarebbe qualcuno disposto magari ristrutturando un po' la redazione, proponendo nuovi contenuti, cambiando un po' il taglio o qualcosa del genere, insomma, che però qualcuno avesse magari l'ardire e ovviamente la facoltà di acquistarlo. In realtà questo non succederà, almeno le notizie che abbiamo a disposizione fino ad oggi ci dicono che questo non succederà e quindi il sito verrà chiuso. Vedete bene che io ho lavorato in una casa editrice e durante la mia permanenza in quella casa editrice una delle testate è stata effettivamente chiusa, sia dal punto di vista cartaceo che dal punto di vista, ovviamente correlato, dal punto di vista digitale. Però che cosa è successo in quel caso? Mi è sembrato una maniera intelligente di affrontare la questione. Gli articoli, almeno quelli più importanti, ma la grandissima maggioranza, sono stati sostanzialmente trasferiti all'interno di un'altra delle riviste del nostro gruppo e quindi erano ancora fruibili, erano ancora ricercabili e c'erano ancora la possibilità, insomma, digitando il vecchio dominio e la vecchia URL, se qualcuno si fosse salvato il link nel browser, avrebbe potuto leggere comunque l'articolo e quindi risalire a quella che era la conoscenza che era contenuta in quegli articoli. Ora, il fatto che DPI Review venga oscurata, io non dico che sia un evento epocale che ci segnerà per sempre, perché non è così, insomma, il mondo andrà avanti, mi dispiace tantissimo per le persone che lavoravano a DPI Review, ma il mondo andrà avanti, però, però, il contenuto di quel sito era tanto. E c'era The Photographic Eye, un bellissimo canale inglese che vi consiglio assolutamente di seguire, ne parlava nei termini, è come se avessero bruciato la biblioteca di Alessandria. Ora, io non la metterei in questi termini, probabilmente non è una cosa così importante, però effettivamente è un gesto, quello di chiuderlo definitivamente senza dare la possibilità più di leggere nulla, è un gesto parimenti violento, forte, pesante. La scelta di non renderlo nemmeno visitabile soltanto in solo lettura, quindi, purtroppo, licenziare tutta la redazione, supponiamo, e tenere in vita il sito con tutti gli articoli non è stata presa in considerazione, o comunque, magari è stata presa in considerazione, ma è stata reputata non adatta alle necessità di Amazon di ristrutturare quelli che sono i suoi costi, e quindi, niente, non ci stava dentro Amazon. Quanto cavolo costava tenere acceso questo sito, però non ci stava dentro. Quindi, noi ci perderemo tutto questo. E questo è molto, molto interessante. Molto interessante perché proprio nel momento in cui è nata DPI Review, quindi, quando è nata la fotografia digitale, c'è stato un passaggio fondamentale di cui ci stiamo accorgendo in questi giorni. Quando ci accorgiamo di quello che è veramente la fotografia digitale, il mondo digitale? Quando lo perdiamo? Quando si perdono i dati, ecco che ci ricordiamo che se li avessimo scritti da qualche parte, non li avremmo persi così. Se avessimo avuto i negativi delle fotografie contenute nell'hard disk che è stato bruciato da un fulmine, non li avremmo persi, avremmo potuto recuperarli. E io non sono un nostalgico. Mi piace tantissimo la pellicola, scatto tantissimo la pellicola, ma sono anche un entusiasta delle novità tecnologiche. Io sono un informatico, cioè a me piace la tecnologia. Per questo motivo io amo anche le fotocamere digitali, non ho nessun problema con la fotografia digitale. Ma, ma, e qui viene il punto del mio ragionamento di oggi che è totalmente a braccio, non ho scritto nemmeno una scaletta, ma stampo. Attenzione che stampare le proprie fotografie è diventato col digitale ancora più importante dello stamparle quando avevamo i negativi. Perché se prima avevamo almeno i negativi dentro il nostro cassetto e potevamo stampare le fotografie quando cavolo ci pareva, adesso che abbiamo il digitale, abbiamo questi file e vi assicuro, vi assicuro, ho visto, ho visto le peggio cose per quanto riguarda i sistemi di backup o i sistemi di non backup da parte di fotografi che dedicano centinaia di ore alla loro fotografia. Centinaia, centinaia di ore, migliaia e migliaia di euro per acquistare attrezzature, per fare viaggi, eccetera. e poi si permettono di avere le proprie fotografie non backupate. Insomma, questa sensazione di averle sempre a disposizione che non è reale. Non è reale. Avere sempre a disposizione le proprie fotografie non è reale col digitale. Non le avete sempre a disposizione. Ce le avete finché ce le avete. e tutti i sistemi informatici a un certo punto falliranno. A un certo punto tutti i sistemi informatici moriranno. E quindi è sempre molto importante backupare, backupare e fare il backup del backup. E quando hai due o tre copie probabilmente stai sereno per un po' fino a che non te ne se ne rompe uno e allora devi fare un'altra. Mi raccomando, questo è fondamentale. Ma è ancora più fondamentale stampare. perché quello che è successo di peer review può succedere domani mattina a qualunque altra piattaforma sulla quale voi avete basato l'esistenza e la visibilità delle vostre fotografie. Non solo delle vostre fotografie anche dei vostri contenuti in generale. Io mi immagino questo canale YouTube delle volte ho pubblicato dei video che magari mi avrebbero potuto in qualche modo non dico far bannare il canale perché probabilmente no ma dare dei problemi. Altri creator magari si sono trovati il canale chiuso e non c'è modo di tornarci dentro. Quel contenuto lì viene perso viene completamente cancellato dall'esistenza e siccome ci vuole così poco a fare questo danno a fare questa cosa con qualunque tipo di contenuto digitale il mio invito il mio invito è quello di trasformarlo in qualcosa di fisico. Non più tardi di stamattina uno di voi Daniele ha ricevuto una coppia di una mia stampa che mi è stata richiesta da lui gliel'ho inviata e mi dice cavolo però quando prendo in mano le fotografie è proprio tutta un'altra sensazione rispetto al guardarle sullo schermo mi sembra di entrare in connessione con quello che c'è in quella fotografia col soggetto ed è assolutamente vero ma non è soltanto una questione emotiva ormai non è più nemmeno una questione emotiva ormai è un strumento di difesa stampare le proprie fotografie è un atto di difesa nei confronti del tempo nei confronti del futuro e nei confronti di quello che può succedere su questo canale sul podcast in particolare e su questo canale io ci ho buttato tantissime ore per fare una puntata del podcast normalmente mi ci vuole qualche ora per le puntate più complesse magari quelle in cui vi parlo di un autore quindi mi devo documentare devo andare a indagare capire magari ho un'idea di base e poi dopo devo in qualche modo elaborarla allargarla arricchirla di altri elementi magari mi ci vogliono giorni e domani mattina tutto questo potrebbe morire istantaneamente per questo motivo tra l'altro sto pensando sto pensando a come ovviare all'eventualità in cui anche Google decidesse di fare a meno per esempio di YouTube o Spotify Apple Podcast decidessero di fare a meno della distribuzione dei podcast non lo so può succedere il fatto che abbia chiuso DP Review che per me era un punto di riferimento fisso era lì cioè DP Review c'è sempre stato nel momento in cui uno doveva comprare una macchina fotografica nuova uno dei posti dove si andava a controllare le cose era DP Review e nel momento in cui questo è stato chiuso così di punto in bianco senza lasciare traccia senza lasciare nulla dietro ebbè quello fa molto riflettere noi stiamo mettendo tantissimo di noi stessi nelle mani di aziende che giustamente badate bene che io non sono contro il capitalismo sono anzi a favore del capitalismo e capisco benissimo sia le policy per cui determinate piattaforme non consentono determinati contenuti eccetera eccetera ma capisco anche perché determinate piattaforme decidono a un certo punto di chiudere un loro servizio è successo in passato a google che ha chiuso se vi ricordate c'era quella bellissima applicazione che era Inbox che era si mi sembra che si chiamasse Inbox che era una specie di gmail ma molto meglio google plus è stato chiuso è pieno di questi casi un altro di questi casi è la chiusura di DP Review cioè rendiamoci conto li stiamo mettendo noi il nostro sentire come fotografi dentro a dei contenuti a dei contenitori che potrebbero esplodere da un certo punto di vista ovviamente il trade off tra pro e contro al momento è ancora comunque molto diciamo sbilanciato dalla parte dei pro perché le probabilità che siti come 500 pixel non so dove mettete voi le fotografie behance instagram banalmente facebook chiudano effettivamente sono piuttosto basse ma non sono assolutamente zero non sono neanche secondo me così basse non sono neanche così basse perché basta semplicemente un cambio nei chiari di luna che qui giustamente queste aziende quando ci sono i momenti di forza assumono assumono e producono e mettono giù server schiere terabyte 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 a un certo punto quando nei momenti di stanche si accorgono che hanno un po' esagerato beh non ci mettono un minuto a decidere di licenziare 18.000 persone amazon 12.000 persone google tutti quanti twitter è veramente è un mondo così mutevole quello del digitale così tanto ventoso si è come delle bandiere in un in una giornata di wind shear quindi di venti che cambiano da destra a sinistra ed è pericoloso dal mio punto di vista mettere tutta la nostra conoscenza tutto quello che noi abbiamo fatto dentro semplicemente al computer di qualcun altro perché il cloud è questo è il computer di qualcun altro sono tanti computer di qualcun altro che ci costano talmente poco tante volte sono gratis come ad esempio youtube e che ci permettono di fare talmente tanto che ci sembrano perfetti ma non lo sono non tanto per la possibilità di perderli per la mancanza di ridondanza ma proprio la possibilità che un giorno domani mattina chiudono chiudono e tu ti ritrovi che tutto quello che sapevi o te lo sei immagazzinato in testa te lo sei scritto da qualche parte oppure se vuoi recuperare qualcosa che avevi letto tempo fa e sai che era su di peer review non lo puoi più quindi non è come aver bruciato la la biblioteca di Alessandria naturalmente ci vuole veramente è un paragone un po' forzato ma è comunque un atto molto forte è comunque qualcosa di molto pesante è comunque qualcosa di molto interessante anche perché vuol dire che il mondo della fotografia in particolare è staccato è slegato non è più quella non tanto la massa tempo fa ho sentito un video di Marco Fazio che parlava del declino della fotografia lui parlava del fatto che non ci fossero macchine fotografiche da media world beh prima di tutto media world è in crisi da anni quindi non vedo perché dovrebbe avere tante macchine fotografiche scusate nella nella sua vetrina quando naturalmente la maggior parte delle persone non compra macchine fotografiche perché ce l'ha già quindi il mondo della fotografia è ricchissimo il mondo della fotografia attualmente non è mai stato così grande non è mai stato così bene da un punto di vista della produzione e della qualità della produzione fotografica media generale è altissima è altissima tutti abbiamo uno smartphone in grado di fare fotografie quindi tecnicamente tutti siamo fotografi quindi non è che la fotografia è una nicchia quello che è una nicchia è diventata la fotografia amatoriale di alto livello o comunque di quelli appassionati proprio di macchine fotografiche quello sì quello sta diventando una nicchia e da un certo punto di vista non so se esserne contento o scontento perché potrebbe anche essere un bene ma il fatto che di peer review possa essere chiuso vuol dire che comunque la comunità fotografica non è coesa cioè non è unita non che ci sia da fare una rivoluzione per carità non farò proteste per la chiusura di peer review ma significa che la base è frammentaria vuol dire che non si pensa nemmeno che sia possibile in qualche modo far diventare profittevole quello che è un punto di riferimento del settore tante fiere hanno chiuso quella di New York ce ne sono sempre meno anche in Italia forse resiste Fotokina tante tante manifestazioni fotografiche chiudono è sempre più solipsistica la cosa è sempre più ognuno per conto suo c'è sempre meno condivisione di persona c'è sempre meno riunione intorno alla fotografia e in questo anch'io sono un po' colpevole perché per primo io vi dico che tante volte mi sono trovato un po' spiazzato nei circoli eccetera però forse anche quelli avevano un valore cioè non tanto dal punto di vista di crescita personale quanto dal punto di vista di riunire in un posto tanti appassionati della stessa cosa e quindi dare la sensazione di far parte di qualcosina i gruppi di Flickr che erano un posto meraviglioso sono sostanzialmente quasi morti perché siamo tutti su Facebook io non sono più su Facebook ma in tanti si è su Facebook si è su Instagram che è un altro posto solipsistico dove ognuno pensa per sé dove ognuno fa il suo e ognuno facendo il suo perché scrivere su un forum perché perché andare su DP Review e mettere la propria conoscenza al servizio degli altri perché spiegare a qualcun altro per la centesima volta come si carica una tank perché spiegare a qualcun altro per la millesima volta come si scatta sulla neve non lo so c'è tutte queste informazioni ognuno se le costruisce come riesce attraverso internet sempre quando sempre che internet rimanga aperto a chiunque e poi diventa un'operazione personale la fotografia lo è perché ovviamente la produzione fotografica è sempre personale ma la condivisione ormai è io che metto qualcosa dentro un computer e poi chi lo vede lo vede e si fa magari la fotografia per spingere un computer a pensare che la nostra fotografia sia buona e quindi a promuoverla oppure si modifica la propria fotografia per renderla accettabile a un computer quando invece quando invece quello dovrebbe essere l'ultimo passaggio quello dovrebbe essere il non la ciliegina ma diciamo il cappello che ti permette di dare una visibilità globale a qualcosa che hai fatto e che tieni in mano dal mio punto di vista mai come quest'oggi mai come dopo aver sentito della chiusura di DP Review io penso che sia di capitale importanza avere le stampe delle proprie fotografie ma è veramente assolutamente fondamentale mi raccomando mi raccomando se mi ascoltate o se mi vedete provate provate a ragionare su quante fotografie sono a rischio tra la vostra produzione provate a immaginare che silenzio assordante potrebbe esserci nella vostra nel vostro cuore nel momento in cui quelle fotografie non dovessero essere più disponibili e nel momento in cui la piattaforma sulla quale vi basate non dovesse più garantirvi la possibilità di farle vedere l'ultima puntata del podcast vi ho parlato del mio del mio approdo su OnlyFans di come avessi delle fotografie stampate che vivevano come stampa semplicemente ogni volta che qualcuno le vedeva quindi funzionavano come fotografia soltanto in quel frangente e quindi come avessi bisogno di un outlet per loro per quelle immagini che fosse diciamo scopribile che fosse in qualche modo fruibile da persone che non sono fisicamente vicino a me ma ma il contrario non avrei mai potuto accettarlo cioè non avrei mai potuto stare anni con le foto soltanto digitali non è possibile ragazzi ragazze amici e amiche è proprio un concetto sbagliato la stampa fatela online costa veramente poco paratevi il sedere godetevi la vostra fotografia fate le stampe piccoline fate le piccole ma tipo anche formato fototessera come fossero delle piccole polaroid come delle piccole carte su un foglio ci fate stare 16 stampe ok 8x8 7x7 insomma quante più riuscite fate provine a contatto e abbiate in mano qualcosa che non vi può essere tolto se non da voi stessi cioè la colpa della quale la perdita della quale la colpa della perdita insomma l'avete capito il fatto di perdere quelle immagini non deve essere appannaggio di nessun altro se non voi cioè dovete essere voi in controllo di quello perché altrimenti perché fotografate perché altrimenti perché fate fotografie per cosa cioè per metterle a disposizione di chiunque sì ma per quanto tempo come come è fondamentale la domanda è come io rendo disponibili le mie fotografie l'intenzione è tutto sia quando scattate che quando le mostrate è assolutamente importantissimo questa questa cosa della chiusura di peer review non ha fatto altro che acuire quello che pensavo che fosse un qualcosa di già sodato per me ma di cui in qualche modo capivo chi non voleva approcciarsi alla stampa fotografica adesso non lo capisco più non lo capisco più perché siamo in balia siamo costretti a dipendere da altri e questa cosa qua naturalmente ha dei grandissimi vantaggi ma anche anche degli enormi svantaggi poi se voi fate solo foto ai vostri il vostro gatto per voi stessi e il contesto è quello lì soprattutto mi fa piacere che ascoltate questo podcast ma probabilmente non è così importante per voi la fotografia se fate anche solo una volta una fotografia che non è solo per voi stessi dovete stamparla almeno quelle che reputate migliori almeno una percentuale di quelle fotografie che voi fate salvatevele non su un computer ma in mano perché non solo sarete più contenti da un punto di vista fotografico perché vedere le fotografie le stampe è proprio un mondo a parte è un mondo a parte è una cosa completamente diversa se non avete mai stampato non potete saperlo cioè non dovete provare e in più avete qualcosa la cui responsabilità è solo vostra e questo per me è fondamentale specialmente quando appunto c'è tanta intenzione dentro quello che si fa e niente spero che questo podcast totalmente abbraccio questa puntata vi sia in qualche modo piaciuta vi sia stata utile spero di aver raggiunto lo scopo di spronare almeno qualcuno di voi a stampare queste benedette fotografie perché io ve lo dico magari vi potete iscrivere al canale youtube o mettere il podcast ai preferiti mi farebbe tantissimo piacere naturalmente potreste anche iscrivervi al mio telegram al mio instagram al mio sub stack iscrivervi a tp che è il posto dove potete contribuire al progetto se volete ma tutto questo è caducco a parte che siamo caduchi noi quindi la nostra vita è limitata ma tutte queste cose noi non sappiamo se domani mattina ci saranno cioè andiamocene conto sto pensando a come rendere disponibili i video nel momento in cui youtube dovesse chiudere so che è una eventualità molto remota però non si sa mai un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo ciao ciao